Oggi ho ascoltato un'intervista che esemplifica quanto la pandemia emotiva e la razionalizzazione esasperata sia diffusa nel nostro mondo. L'intervista era al medico cantonale ticinese, cioè il massimo responsabile della sanità in Ticino, alla domanda «Senta, dottore, ma com'è che alcuni soggetti reagiscono alla medicina in modo violento, con sintomi e altri no?» La risposta è «E questo è dovuto alla biologia, è il motivo per il quale qualcuno, se contratta un agente patogeno, si ammala e qualcun altro ha sintomi lievi e qualcun altro è asintomatico». Dunque, pensiamo a quanto è. Mi verrebbe da dire patologica, patologia della normalità questa risposta. Da una parte ci dice «Biologia», il «Bios», ricordate la famosa rottura della catena dell'essere, Fisio, Bios e Nous? La risposta è la biologia, come se l'essere umano fosse solo Bios. Questo è l'esasperazione, il Nous, tutto l'infinito mondo della complessità, delle emozioni, dell'anima, della mente, dello spirito, completamente ignorato. Secondo è generalizzazione, sintomi e non sintomi. La generalizzazione, oltre alla riduzione a materia, è uno dei grandi drammi di questo mondo. Capisci che se tu hai degli strumenti potentissimi, come quelli della tecnologia, in questo caso della terapia genomica, e li applichi, secondo un'epistemologia biologica, cioè riduzionista e generalizzante, per quanto potenti si creano dei drammi, questa è la patologia della normalità. La generalizzazione e la riduzione. E non a caso, poi lo vediamo fuori, generalizzazione, uno dei sintomi gravi della pandemia emozionale che infetta l'umanità nella sua maggioranza. Generalizzazione. Lo vediamo nei politici, se sei dalla mia parte o se sei dall'altra parte, è ragione di torto. Lo vediamo nella scienza. Se credi nel credo biologico riduzionista, sei uno scienziato, altrimenti sei adoratore delle fake news. Lo vediamo nella religione. Solo Dio, solo Gesù salva, oppure solo Allah salva. È così diffuso. Per non parlare, ovviamente, della popolazione, così mi dire, comune. Pensiamo a chi non salta in trista è del tipo da stadio, che però è così pervasivo. Quindi, se noi ci occupiamo di risolvere un problema all'interno di un problema infinitamente più grande che non vediamo, non lo risolveremo mai. Curare la generalizzazione è vitale per la nostra società. E chi lo vede? Proviamo a vederlo noi. Prova a accorgerti ogni volta che generalizzi e specifica. Senza quantale che la generalizzazione nasce da un pensiero semplice, dalla appunto da un pensiero legato alla pandemia emotiva, legato alla reazione della migdala, un circuito breve per il quale non arriva per il quale non arriva alla corteccia cerebrale. Non passa nemmeno dall'ippocampo. Una risposta generalizzata e breve di sopravvivenza. Non a caso viviamo costantemente in periodi di emergenza. Perché è funzionale rispondere è funzionale rispondere secondo una modalità emotiva di emergenza e di generalizzazione. Fermati, non cadere nel trucco dell'emergenza. Non c'è nessuna emergenza se non quella del tuo sé, delle tue qualità, delle tue risorse. specifica. Entra dentro ogni situazione, guarda. Perché ogni situazione è diversa e è molto più complessa di quanto ti vogliono far credere. Guarda, occhi chiari, mente vuota, cuore leggero.